Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto. È davvero un onore per voi avervi qui. Questo incontro rappresenta un momento importante per l'affetto, la stima e la solidarietà che finora ci state manifestando in questo percorso intenso e travolgente. La campagna elettorale formalmente comincia oggi, ma per lui l'impegno è cominciato diversi mesi fa e ve ne sarete senz'altro accorti, visto che abbiamo fatto un po' di rumore. Il nostro augurio è quello di averlo fatto in modo curioso e solo per un motivo, a sapere che esistono persone per bene che vogliono cambiare le sorti di questo Paese. Iniziamo subito questa serata di conoscenza con l'intervento di Luigi Puffore che introduce e racconta il perché della nascita di questo gruppo. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione, per la merce e onorato dalla vostra presenza e grazie a tutti. Dico pure subito, parto da una domanda che molti si pongono. Chi sono questi pazzi che osano sfidare il potere prepostituito in questa nostra città? Siamo un gruppo di cittadini normali che a un certo punto hanno deciso di andare fino in fondo con la loro partecipazione attiva sui problemi della città per lavorare su un programma, Uomini e Donne. Abbiamo iniziato circa un anno fa. Un anno fa abbiamo raccolto quella prima frase, un suggerimento di Papa Francesco quando diceva appunto che il mondo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme. E abbiamo iniziato a dialogare la scorsa estate già tra associazioni che già operano da anni sul territorio, con tanti cittadini anche non facendo parte di questa situazione ma che rappresentano il mondo delle professioni e delle competenze della nostra città. perché non dimentichiamo, Bosco Reale ha un patrimonio di risorse umane sottoutilizzato e che una volta per tutte dovrebbe dire la sua sul futuro della nostra città.